Henry, Gignone, lei non è alcolizzata. Non può mettermi in attesa. Io la metto in attesa. Il guarda Philipson del paese. La sua chiamata è molto importante per noi. Prego, rimanga in attesa. E la strada maestra è mia. Ci sono otto chiamate prima di lei. E qui si guarda ancora la TV. Ancora.